Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo della preoccupante crisi tra Enzo Paolo Turchi e sua moglie Carmen Russo, che è stata rivelata agli occhi di tutti grazie alle immagini delle telecamere del grande fratello. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La discussione tra Enzo Paolo e Carmen è stata piuttosto accesa, rivelando problemi sottesi nella loro relazione che probabilmente stavano covando da tempo e che solo ora stanno emergendo chiaramente. Enzo ha accusato Carmen di avere un comportamento diverso quando sono sotto le telecamere, facendolo sentire a disagio e rendendolo sospettoso riguardo alla sincerità del loro rapporto. Per buona parte della notte, i due non si sono riavvicinati, mantenendo una distanza fisica che sembrava indicare una frattura più profonda di quanto avrebbero immaginato. Carmen ha provato a mostrare dolcezza nei confronti di Enzo, ma quest'ultimo ha interpretato le sue parole come poco autentiche, il che ha ulteriormente aumentato la sua irritazione. La freddezza di Carmen è apparsa evidente, portando Enzo a credere che ci fosse un distacco emotivo da parte sua, il che ha reso ancora più complesso il loro già fragile equilibrio. Enzo si è aperto, confessando di essere rimasto ferito dal cambiamento che ha percepito in lei, ammettendo che il suo comportamento distaccato lo aveva davvero sorpreso. La tensione tra i due era evidente e palpabile, tanto che i fan hanno subito notato l'assenza di complicità e tenerezza, scatenando numerose discussioni sui social media. In seguito, Enzo ha rivelato di sentirsi trascurato da Carmen e di desiderare un confronto più intimo e onesto, che però sembrava sempre più difficile da ottenere. Carmen ha fatto intendere che, a suo avviso, il loro legame fosse ancora forte, ma non è riuscita a convincere pienamente Neenzo negli spettatori che seguivano con attenzione. La notte si è chiusa in un clima di incertezza tra i due, lasciando i fan e il pubblico con molti dubbi su come evolverà la loro situazione nel prossimo futuro. E tu cosa ne pensi della crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.